Come chiamare? Sono aumentato! Sono diventato al meglio altro di grado! Perché è magnifico il rettore? Magnifico rettore? Perché è magnifico il rettore? È magnifico, ne parleremo una prossima volta. Invece questa sera so che parliamo di qualcosa che ti ha suggerito una nipotina. Ah sì, 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 è una cosa molto importante. Sì, sì. Te la ricordi più? Ma sì, perché hai sbattuto contro la porta. Ma in realtà questo succede a tutti i bambini. Cioè lei ha sbattuto contro la porta e poi ha detto brutto la porta cattiva e ha cominciato a picchiare la porta. Sai che non succede solo ai bambini? Stamattina mi sono alzato al buio e mi sono inciampato sulla biciclettina lasciata da Tommaso in mezzo al corridoio e ho detto anche io una frase alla biciclettina che poverina era innocente. Ma in lato questo è proprio in noi. Questo principio viene dalla preistoria. È il principio dell'animismo. Cioè tutte le cose hanno una volontà. Una volontà. Cioè le cose agiscono volontariamente. contro di noi. Tutti i preistori, tutti gli uomini del Neolitico pensavano che fosse così. Adesso ti prendo un esempio. Uno dei tanti, studiato a lungo. L'ho studiato a lungo ai suoi tempi. Gli Aranda. Gli Aranda? Gli Aranda. Eccoli li hai segnati. Si chiamano Aranda. O Arunta anche. Sono una, chiamiamo tribù, dell'Australia centrale, quindi aborigeni, ce ne sono ancora adesso. E hanno tentato di imbrigliarlo questo animismo, cioè questo fatto, in un sistema sociale, che poi è di tutto il mondo preistorico, che si chiama totemismo. Totemismo lo sai più o meno che cos'è. Significa che in una tribù, in un gruppo, ci si divide in fratrie, cioè in sottogruppi, e ognuno di questi sottogruppi è praticamente l'erede, si sente o è l'erede, di qualche cosa da difendere, cioè un animale particolare, una pianta, un evinimento atmosferico. Perché questo? Perché il mondo è loro. Cioè, se loro non si occupano del mondo, il mondo finisce. Loro hanno la paura, la paura estrema, che il mondo sia casuale, che possa finire dal momento all'altro. E allora si riuniscono in una festa all'inizio di primavera, che si chiama Inti Chuma. È una parola difficile, non importa. Inti Chuma. Cos'è questa festa? Loro disegnano per terra i simboli degli animali, del vento, e poi li cospargono di seme o di sangue. In questo modo costringono quelle cose a rinascere. Quindi sono loro a costruire il mondo. Però è bello, non è anche darsi un senso di importanza. Cioè, il mondo esiste perché esistiamo noi. Certamente. Ma è un ragionamento simpatetico. La parola è difficile, lo so. In realtà significa costringere la natura a fare quello che voglio io. è il principio fondamentale della magia. La magia è tentare di costringere la natura a fare qualche cosa. Che è rimasto? Ma è bellissimo. Sempre che queste due parole mi permettono di capire... Scusate, vi racconto un aneddoto della mia adolescenza. Io avevo questo genere, anche io le chiamavo nevrosi, però allora, psicosi. Cioè, una volta c'era mio padre che dormiva vicino a una quercia, apposolato. Io avevo un sasso in mano e ho sentito che dovevo far passare il sasso fra la testa di mio padre e il tronco di quercia. Se non fosse successo, mi sarebbe venuta una malattia gravissima. Ho lanciato il sasso, ho colpito la nuca di mio padre e, in effetti, avendo sbagliato, la malattia mi è venuta. Adesso che mio padre mi ha gonfiato. Cioè, casuale. Ma per gli aranda sarebbe stato... Cosa non avrebbe detto? ...regolare. Cioè, notevolmente regolare. Se avessi saputo degli aranda... D'altronde, Spencer e Gillen, che sono i due che hanno studiato gli aranda, che poi la pubblicazione però è di Mircea e Elia, del più grande storico delle religioni, dicono che tutto questo avviene... Non ne frega niente che la causa sia razionale. Loro sono convinti che la causa sia la loro forza passata alla natura. D'altronde, questo avviene anche oggi. Se noi ci pensiamo bene, perché un bambino si mette la maglia di Totti per giocare a pallone? Per essere più forte. Perché un giocatore di briscola, non so, ti tocca la... Perché è un gesto... Ecco perché una volta Ercole si metteva la pelle di leone addosso dell'ulione per apprendere l'energia dell'ulione. Certamente. I capi indiani si mettevano le penne di tutti i tipi, i colori di tutti i tipi. E noi rimaniamo in quella dimensione di accettazione di questa fantasmagoria che ci aiuta a dare una verità. C'è anche il contrario. Tu pensa che le mamme, Spencer e Gillen, ogni tanto vede a piangere delle madri e dicevano, cosa succede? Mio figlio è morto a caccia. Erano tutti cacciatori e raccoglitori. Mio figlio è morto. Come? Ma non è ancora tornato la gente. Io so che è morto. E infatti era morto. E le donne sentono. Come oggi. Oggi un fratello gemello sa del fratello gemello anche se è distante. Il famoso sesto senso. È una stranissima cosa. Tu parlavi prima di maglie di giocatori famosi. Una delle prime maglie che mi è stata regalata è stata la maglia azzurra di quello che è il nostro grande giocatore di stasera. Per me è il più grande centrocampista italiano di tutti i tempi. Sì. Ed è questo. Su questo non sono disposto a sfidare chiunque e dirmi il contrario. Ed è un mito che non sta su un piedistallo. Ed è per questo che noi lo adoriamo. Il giocatore di stasera è Marco Tardelli. Grandissimo Marco. Marco. Eccolo. Marco. Ciao. Ciao Marco. Benvenuto. Benvenuto. Ciao Roberto. Ciao Massimo. E grazie per aver accettato di sottoporti anche tu ai giochi di questo perfido signore. Cosa gli hai preparato? Gli ho preparato degli indovinelli calcistici. In realtà sembrano calcistici. Ma non sono calcistici. Ma adombrano qualche altra cosa. Gli diciamolo anche a casa chi non è appassionato di calcio il calcio non c'entra niente. Io e Marco abbiamo una grande familiarità in questo senso che avevamo in Kenya due case vicine. In Kenya. In Kenya. Soltanto che quando c'era lui non c'era io. Verissimo. Quando c'ero io non c'era lui. Perché era la stessa casa. Alternavatevi. Era la stessa casa. Era stranissimo. Allora sei pronto? Sei pronto? Allora cominciamo con il portiere. Il portiere. Si spiega. Poi ti sottolineo le parole importanti. Si spiega benissimo che si sia preso una testata. Esce troppo di frequente anche quando la palla finisce sul fondo. Le parole chiave sono spiega. testata. Esce fondo. E questo l'ho capito anch'io. Anche perché ha a che fare col mio lavoro Marco. Non è il portiere. Sì no. Non è fai sai. Per un calciatore come me sentire parlare Roberto è sempre molto difficile perché lui è bravissimo. Io no. Però insomma quello che ha detto perlomeno nelle parole chiavi dovrebbe dovrebbe assomigliare a un giornale o una cosa del genere. Un grande editorialista della stampa eh Marco. Perché se mi metti la testata il fondo eccetera fantastico. La prima l'hai fatta. E allora proseguiamo. Il bomber. Tu non sei stato un bomber. Però ha fatto il gol più importante di tutta la storia del calcio. Ogni tanto ne facevo ne facevo qualcuno però devo dirti che abbastanza belli spesso e buoni. E beh è bello farlo. come ce lo ricordiamo anche noi diciamo. Allora in ogni sua partita fuori casa non manca di mordente e lo si vede spesso a gamba alzata colpire il palo con la rovesciata. Questo è un po' più difficile. Pure in rima l'hai fatto questo. Sì. Fuori casa. Perché non si fa in casa ma perché mi fai questi indovinelli poi ha un mordente guai se lo fai in casa ha un mordente vicino al palo con la gamba alzata. Dai facile. Allora il cane il cane. Venti. Il cane è giustissimo. Faccio un terzo. Dai veloce. Terzo veloce. La gamba alzata al palo insomma può esserci solo un cane. Non lasciarmelo lì con la gamba alzata. Tardelli in campo. Tardelli in campo. In campo. Questo è proprio autoreferenziale. Tardelli in campo. Egli col suo tocco autoritario spesso ne infilava dentro anche più di uno in quanto a punizioni aveva un tal mestiere da dare alle difese un dispiacere. Allora. Guarda. Così mi sembrerebbe Platini. Così potrebbe essere Platini. È autoritario. Tra le punizioni. È autoritario. Soprattutto autoritario ne mette dentro nel senso che ne caccia qualcuno in posti dove non può più uscire non può più uscire questa gente. Cos'è? Un arbitro un commissario? Ah se non può più uscire più grande un giudice un giudice e vai un giudice percorso netto percorso nettissimo quindi siete bravissimi ma eri tanto preoccupato me l'avete un po' suggerito Per gli indovinelli. Allora adesso ascolta questa lezioncina del professor Vecchioni subito ti interpelleremo noi facciamo questa rubrica che si chiama Prima l'italiano e ogni settimana prendiamo dall'attualità un tema legato alla nostra lingua. Allora la cantante o il cantante non so o i cantanti Demi Lovato si è dichiarato non binaria cioè né maschio né femmina e dice che vuole essere chiamata vuole che ci si rivolga a lei al plurale essi cioè they in inglese voglio che ci sia del loro una nostra comica Michela Girò ha fatto una battuta dicendo come il mago Telma e l'hanno subessata di insulti e ha dovuto togliere la battuta da Twitter però io chiedo a te in italiano come funziona? Cioè si può dare del loro oppure si dà soprattutto del lei in realtà si può dare del loro ma è abbastanza bizzarro il fatto di come sia nato il lei perché si dà del lei? Si dà del lei anche a un maschio e questa è la cosa bizzarra creando anche delle confusioni ormai non si creano più però dunque il lei non esisteva una volta si dava anche del voi no? si dava solo solo del voi Grecia e Roma solo del voi non mi ricordo esisteva nel il lei esisteva soltanto nel il discorso diretto era sempre a tu e a voi non esisteva il lei se pensi anche in Dante no non esiste quando parla Brunetto Latini dice voi qui ser Brunetto se non era il suo maestro di filosofia di pensiero gli dà del voi e Farinata Dante dice Otosco che te è per la città del fuoco vivo te vai quindi gli dà del tu come gli inglesi you quindi è tu e voi si dava il voi vostra signoria vostra maestà vostra magnificenza era questo il principio finché a un certo punto tra il popolo in maniera un pochino più mediale di queste altezze e queste grandezze si becca il pronome latino illa che è un pronome che significava quella e diventa ella perché erano tutti femminili vostra grazia vostra eminenza il femminile è fondamentale quindi per quello che è ella rimane ella che poi diventa lei ma siccome la posizione è persona persona e femminile anche parlando con un maschio tu dici lei e non lui quindi lei è un modo di dire che ormai è rimasto cristallizzato e vale sia per i maschi che per i maschi che poi nel ventennio fascista riprovarono a riportare il voi e poi dopo siamo tornati a lei sì ma è strano questo perché il ventennio fascista adorava il latino poteva tenerselo questo bene e invece l'hanno voluto fare per distinguersi però è interessante Marco ma tu a Berzot davi del lei? sempre dato del lei sempre dato del lei sia a Berzot che a Trapattoni non sono mai riuscito anche se a volte mi hanno per esempio quando sono andato con Trapattoni a allenare in Irlanda lui pretendeva che gli dessi del tu ma non ci riuscivo avevo un grande rispetto e per gente che ho grande rispetto e che li vedo un po' come padri non riesco a dargli ma in generale anche oggi perché si dice a mio padre gli davo del tu però si dice oggi che si è perso un po' il senso del rispetto i ragazzi danno del tu anche le persone si ecco nel calcio oggi è così da allenatore i calciatori quando si rivolgevano a te si rivolgono a te usano il tu o lei no mister il lei sempre il lei ti chiamavano mister c'è la distanza si è perso questo rispetto hai assolutamente ragione forse l'educazione civica dovrebbe ritornare nelle scuole quindi dare del lei in questo senso è una cosa penso anche a scuola come succede ci sono degli insegnanti che danno del lei ai ragazzi tu per esempio a scuola no io ho sempre dato del tu e loro a te del lei sempre del lei ovviamente sempre e lo pretendevo anche ora io sono più bacchettono di quanto te no perché poi tu sei anche Roberto Vecchione comunque non è io pensavo che di essere del tu penso comunque che non sia né il tu né il lei che determina rispetto no infatti no certo certo che no anche se vi devo dire che quando io conobbi a Catania Franco Battiato appena l'ho conosciuto gli ho dato del lei perché mi metteva soggezione fu lui a dirmi ma no ma dammi del tu che mi diai del lei ed era un uomo che incuteva soggezione la sua scomparse è stata salutata questa settimana persino dall'Etna che ha deciso proprio di eruttare il giorno dopo la sua morte tanto adesso a Catania lo chiamano la fontana di Battiato ci leva proprio lì a proposito di magie legate alle cose agli oggetti Marco le canzoni di questi grandi musicisti uno ce l'abbiamo qua in studio hanno anche questo di straordinario che fanno da colonna sonora alla nostra vita ora ci dici quale canzone ascoltavate per caricarvi ai mondiali degli spagnoli dell'82 ma guarda per caso credo che sia capitata Cucurucu Paloma era una canzone che andava in quel periodo lì era battiato e credo che abbiamo vinto una partita sentendo questa canzone mentre andavamo allo stadio e di conseguenza è diventata poi la nostra canzone di tutte le di tutte le partite quindi se mi passi la battuta come sai nello sport quando succede qualcosa di particolare che ti fa vincere o che pensi che possa aiutarti a vincere lo tieni sempre poi dicevo nel 2007 è stato il popolo popolo nell'82 c'era le cucurucucu erano i due suoni uno battuto era un pochino diverso ero un pochino diverso direi proprio di sì senti ma a questo punto me la devi far sentire com'è che faceva perché la cantavi anche tu abbiamo sentito guarda almeno all'inizio almeno all'inizio no cantavamo il ritornello io aspettavo il ritornello perché tutti insieme cantavamo cucurucucu paloma e com'era? ecco facciolo sentire dai cucurucucu paloma ma cantalo le note cucurucucu paloma ai 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 la vita hai visto che cacatta che cavolo e questa è la magia dei grandi che rimanga io cantavo mi piaceva cantare anche Samarkand in Spagna dove tu hai fatto la storia del calcio e dove Battiato è molto conosciuto sta succedendo una cosa molto spiritosa in questi giorni possiamo vedere l'immagine perché ci sono dei muri in cui i fan dell'ultra destra scrivono ancora viva Franco alludendo a Francisco Franco e qualcuno ha cominciato a scriverci sotto qualche mano misteriosa ad aggiungerci sotto Battiato quindi è diventato viva Franco Battiato che mi sembra un cortocircuito straordinario anche perché cosa vuol dire Franco Roberto la parola Franco Franco significa libero ed è giusto pensa un po' che significato simbolico ha questa correzione il massimo della non libertà Francisco Franco ha copiato ha Battiato Franco diventa libero è libero perché Battiato oltretutto è stato un libertario straordinario di tutti i modi un sacco di gente pensa ti dico una cosa quando parlavo di Battiato molto spesso con i miei studenti facevo sentire canzoni loro dicevano quasi tutti dicevano non capiamo tutto però questa cosa è bellissima perché comunque la musicalità delle sue parole una frase in centro di gravità permanente sembra sempre che lui le parole metta a caso a molti sembra che butti delle parole a caso questa frase che dice Gesuiti e Euclidei vestiti come dei bonzi per entrare a corte la centro di gravità permanente ce la ricordiamo anche noi è tutta precisa perché parla di Matteo Ricci Matteo Ricci era un evangelizzatore in Cina che aveva tutte queste qualità cioè era un matematico un fisico un astronomo un religioso naturalmente un conoscitore antropologico culturale della Cina Battiato lo prende come esempio come esempio di un uomo che si butta da tutte le parti per capire tutto il possibile un uomo di cultura come Battiato poi traduceva questa cultura in una specie di gioco ma per dirvi quanto era anche pop e anche fa guardate abbiamo scovato questa chicca di un programma televisivo condotto da Giorgio Gabber e Caterina Caselli che salutiamo di quando è del 67 Battiato aveva 22 anni appena compiuti guardate queste immagini le amici mi hanno dato solo guai dall'alto di una torre vi butterò sopra una dura roccia vi lascerò in un'isola che nessuno mai potrà raggiungere io vi metterò le mosse erano già poi quelle che abbiamo visto nelle canzone comunque pensate questo è un abbattiato a 20 anni vi saluto lasciandovi come tutte le settimane alcuni libri per l'estate cominciando da questo Marco lo do a Roberto ma lo do anche a te che tu sei stato ex calciatore ed ex alzitore e quindi questo è il libro del nostro amico Beppe Severgnini Internos roba per voi che avete vinto lo scudetto io spero un giorno di poter scrivere un libro sullo scudetto del Toro qui abbiamo invece un altro libro bellissimo è stata anche nostra ospite una volta Elisa Di Francisca grandissima campionessa di schermo un libro scritto con Gaia Piccardi la racconta la sua vita questa è un'altra storia di sportiva poi invece romanzone bello importante Romana Petri ambientato a Lisbona una saga fantastica lei è una grande scrittrice e qui respiri a pieni polmoni l'area dell'oceano tieni e infine Lirio Abbate Lirio Abbate con il libro Faccia da Mostro che è la storia di un misterioso personaggio che ancora adesso ci sono delle indagini colpevoli di moltissimi diritti di mafia e questo bellissimo libro mi permette di ricordarvi che domani è l'anniversario ventinovesimo dell'eccidio di Capaci e voglio ricordare la campagna come ogni anno della fondazione Falcone del lenzuolo per Falcone mettere domani sul balcone di casa un lenzuolo è un piccolo gesto ma serve a ricordarci a non dimenticare lo faremo tutti i tuoi ascoltatori lo faranno tutti grazie speriamo lo faremo anche noi grazie a Marco la prossima volta però vieni in studio ti aspettiamo qua grazie a voi ciao salutaci Mirta assolutamente ciao a presto ciao Marco grazie